Alla fiera dell'Esp, per due soldi, un topolino mio padre compro. Ti ho disegnata. Hai detto che in quella scuola hai ritrovato il tuo fratellino? Sì. Vi ho fatti arrivare io tutti e due, devi pagare. Mia madre ne ha bisogno. Dai quei cento euro a Justine. Tranquilla, sono dieci. Non devi fare lo spacciatore e lasciare la scuola. Le giuro che mia sorella, senza di lei sarei morto. Perché io ho i documenti e lei non può averli? Ogni volta che dici voglio, ti prendi uno di questi. L'Okita! Sei dolce, Tori. Non c'è nessuno come te al mondo. Le prix du 75e è attribuito a Jean-Pierre e Luc Dardenne, Tori e l'Okita. Ho, io ho non bones. La mia程 iscritto a l'Okita, Tori e l'Okita,bone tale, io le vorrei farlo con le poste. Grazie a tutti.